Ciao ragazzi e ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Daniele Danzu e vi do il benvenuto nella Crazy Week Un contenuto, un video al giorno, anche di format diversi dal solito per, diciamo, stare insieme Una settimana densa di contenuti e nulla raga, prima di lasciarvi al video vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere un mi piace, commentare E soprattutto se volete supportare questo canale c'è il tasto Super Grazie o il link di Stand Gaming Io spero che questa settimana siate in mia compagnia e vi divertiate insieme a me E nulla, non mi resta che dirvi buona visione Ed eccoci ragazzi in un nuovo episodio della Crazy Week E ragazzi siamo in un gameplay e siamo per la prima volta ragazzi in un gameplay di una famiglia che è stata creata da voi Vi faccio vedere anche con l'hashtag Daniele Danzu, voi avete creato varie famiglie E io ho scelsi alcune per popolare appunto la... a parte che c'è il mio castello di famiglia con l'hashtag Daniele Danzu Ma Sinclair mi mandò questi fratelli a Kim che poi si sono diciamo presi la loro... serviamo la colazione con macedonia di frutta Si sono presi la loro... il loro spazio nel nostro gameplay perché appunto il nostro Yuri è diventato una mezza fiamma del nostro Alex E lì a diciamo molto carina si sta facendo riconoscere Comunque Yuri in realtà è un sim che voi avete amato particolarmente ragazzi State amando particolarmente e quindi mi sembrava giusto fare anche un episodio con loro in questa Crazy Week Dato che abbiamo giocato con gli Sventura fare anche un episodio con gli Akim Sono sicuro che voi apprezzerete e Sinclair adorerà Allora vogliono parlare entrambi con Daniele Alberghini Loro sono due fratelli molto molto carini Molto semplici Diciamo molto buoni Hanno comunque una buona reputazione Si vogliono molto bene Hanno questo sogno di aprire il ristorante E io ho già diciamo un'idea su come utilizzarli questi due simmini Lui si sta attualmente Guardate lui è molto amico di... è anche amico di Luana Però è molto amico di Martina C'è una buona compatibilità Ma ragazzi lui in questo momento è super infatuato Apriamo il profino Fidanzatini buona compatibilità Vicini e fa parte del club LGBTQ plus Il nostro Alex Yuri diciamo che è preso bene raga È preso bene da questo flirt con Alex E quindi diciamo nutre un vero e proprio interesse Rispetto ad Alex che è un po' più evasivo Yuri è invece molto più tranquillo Molto più diciamo Normal style come dire Riponiamo E lui cosa vuole fare tra l'altro È un sim rinascimentale Consegui livello 3 di logica Ma io visto che ci troviamo Acquistiamo libri E andiamo a leggere La futilità del tentativo Vai Loro comunque Soldi ne hanno per vivere tranquilli Ma ragazzi No Leggi Ok Ma ragazzi non hanno i soldi per Ovviamente aprirsi un ristorante Quindi forse dovrebbero passare prima nel lavorare Appunto come ristoratori La nostra Lia Kim cosa sta facendo Sta non da ballare Allora visto che ci troviamo E lui Balla con Alex Loro sono molto amici Lia Kim è molto amico di Alex Molto appunto amico di Yuri Vanessa comunque è molto amico di Martina Loro hanno una buona compatibilità Ma non è proprio Non sono ancora amiche Una cosa che Lia però Ha messo diciamo gli occhi Sul proprietario di casa Su Maurizio Alberghini Ragazzi Ebbene sì Tra l'altro lei ha questa aspirazione Esercitati nella consapevolezza Cerca la pace interiore Meditando Facendo yoga per sei ore Cerca il rilassamento Trova un ambiente sereno Leggendo libri sul benessere Ascoltando musica New Age Quindi Ascoltiamo No Cambia stazione C'è New Age Dovrebbe essere da qualche parte New Age Olè Ascolta musica New Age Oh Trova un ambiente sereno Trova la pace leggendo libri Ascoltando musica New Age O da concentrazione Oppure annusando incenso Adorabile Dovremmo comprarlo raga Un bell'incenso Vediamo Luce automatiche No Compriamo l'incenso raga Che vedete Sono cose che io poi Mi perdo sempre raga Incenso Eccolo qua Compriamo Mettiamolo sulla scriv... No Mettiamolo da qualche parte raga Tipo Andrebbe bene Su questo mobiletto No Ma possiamo metterlo anche qui Why not Dai Mi piace Mi piace Brucia Pacifico Assolutamente Ma lo fa Sul momento Annusa il profumo E' concentrata raga Adorabile Oddio raga Comunque siamo Al penultimo giorno Siamo al dodicesimo giorno Di inverno Quindi quando torneremo a giocare con Martina E Joseph Raga Ma Tutto a posto Annusiamo Sta annusando Annusa il profumo Secondo me si Oppure Annusando Annusando incenso Sì L'avremmo anche fatto Così Ok E allora Visto che ci troviamo raga Chiacchieriamo con Maurizio Alberghini Nel frattempo Lui Lo voglio Gli voglio far trovare una carriera Ragazzi Perché mentre lei Ho bisogno che sia libera E poi Capirete perché Lui invece Gli voglio far trovare una bella carriera Nel Diciamo nella Uh guardate chi c'è Bellino È venuto qui ragazzi Allora No Un attimo Romantico Flerta Dai un bacio Basta Basta leggere Andiamo a dare un bacio Al nostro mezzo fidanzatino Dovrebbe essere un mezzo fidanzatino Eccolo Bellino Troppo carini Esprime ammirazione Corteggia Perché lui raga Tra l'altro Ha Corretto Creativo Creativo E avventuroso Eccolo qui Cuoco Come assistente Lava piatti Per ora ragazzi Bisogna Fare Di Ciò che si può Diciamo Un po' di Eh Situation Un po' di situation Acquisita l'abilità di carisma Adorabile Ma loro possono Chi della vita sentimentale Ma loro Romanticamente Intimità fisica Fai fichi fichi sotto la doccia Dai Facciamoglielo fare Un po' di fichi fichi Che non si vede del fichi fichi In questo mio canale Da un bel po' di tempo Troppo bellini Posso dire Loro sono molto Molto bellini Oddio Non è andato a buon fine qualcosa Raga Tra loro c'è molta passione Diciamo che Non vuole fare fichi fichi What? Tra loro c'è molta passione Ragazzi Ma c'è poco Vedete Aumenta la barra Diciamo del Yuri ha preso l'interesse Del fichi fichi Di Alex E' aumentata tantissimo La barra Della passione Della romanticheria Ma C'è poca passione C'è poco Come dire Oh girl Oh bellina Ci serviva una foto Ci serviva una foto Ragazzi Bellini Ma se io vengo un po' più qua Oh girl Scusateci Oh girl Bellini Grazie per la foto Amici Grazie per la foto Oh Alex ci sta ragazzi Al Diciamo Al fichi fichi Non ci sta molto Nei rapporti Come dire Interpersonali Non vuole approfondire Più di tanto Raga Alex è fatto un po' così Ahimè Lui quando va al lavoro Dalle 9 alle 17 In realtà ci va domani Prepara del cibo Mixa delle bevande Adorabile Lei cosa sta facendo? Sta nuotando Bellina Bellina Amica Cerca rilassamento Ci piacerebbe molto Che tu entrasti nel club LGBTQ plus No amo Non te la prendere Però Qua ripuliamo Diciamo che È il fratello Che potrebbe entrare In questa roba Dobbiamo comprare Dobbiamo comprare Yoga Anche lei Il tappetino Da yoga Oh girl Ah no Quello era per Ok Compriamoglielo rosa Dai Why not Esercitati nello yoga Ole C'è questa Aspirazione Ragazzi Che hanno aggiunto Guru Zen Specialista dell'autoterapia Queste sono le aspirazioni Che hanno aggiunto Con il refresh Se non ero Di un giorno alla spa Io adoro E sono a singolo Step Singolo blocco Quindi Fattibilissime E danno Dei tratti premio Tipo Per esempio Questa è Prospettiva chiara Lia Ha piena consapevolezza Di sé E sarà ora in grado Di avere un po' Di sollievo Della spietatezza Della realtà Di rivalutare le situazioni Si rende per esempio Conto di quanto Tutto abbia poco senso Ma conserva il proprio Ottimismo Adorabile Cioè lei Per pulire Le cose da giù Quelli si stanno baciando Nel frattempo Adorabili Adorabili Allora Vi svelo Perché non è che Con loro faremo Chissà quanti episodi Cioè in realtà Come avete visto Anche gli sventuri Abbiamo fatto un episodio E via Lia A Kim A me piacerebbe Che Quando E se La nostra Martina Si dovesse Aprire Un ristorante Lia A Kim Ci lavorasse All'interno Le desse una mano Mi piacerebbe molto E cosa farei Quando ci sono Diciamo I turni di lavoro Sposterei Lia Nella famiglia Proprio Nell'unità familiare Della nostra Martina Cobalto Per 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 Comunque Si Ok Farla lavorare Con noi Però Voglio dire Usarla Anche Proprio per gestire Un po' La situation Allora Lui sta Giocando Qui A scacchi Perché deve Conseguire Livello 3 Di logica Anche se vorrebbe Chiacchierare Con Daniele Alberghini Ma facciamola Chiacchieriamo Chiacchieriamo Con Daniele Alberghini Così La facciamo Entrare Anche Nelle nostre Nelle nostre Partite Gli alberghini Sono sempre Un bel Gioca con Vediamo chi c'è C'è Alex Longobardi Volendo No non giocare Con Alex Longobardi Gioca Eserciti Con l'apertuna Del dragone Lei sta facendo Intanto Eserciti Nella consapevolezza Facendo yoga Per un tot di ore Facciamole fare Livello 2 E poi Chiamiamo magari Maurizio Alberghini Raga Molto Molto Uh guardate Qui c'è una Vanesha Una vicina Vanesha è diventata Una vicina Scusa Dove abita lei Mi sono perso qualcosa Mi sono perso qualcosa Gioca con Non c'è Vanesha Vabbè Intanto lei Ci sta facendo amicizia Raggiunto livello 2 Di logica Bravo Bravissimo Lei è super concentrata In questo momento Raga Adorabile Adorabile Quindi facciamogli fare Ancora Un pochino Qualcosina Tre ore Va benissimo Amo cosa devi fare Ti dovresti fare Pipì e doccia Facciamoglielo fare Usa E usa I like it Qui c'è del Della roba sporca Tipo Rifletti Rifletti sulla pienezza Dovrebbero Dovrebbero avere Dei lavori Quindi forse Dovremmo fare Prima Di avere Diciamo No Un Cioè il nostro File di salvataggio Ragazzi dovrebbe comprendere Anche questa roba Dovremmo Comunque Cercare Un lavoro Per tutti quanti Insomma Allora Io volevo fare Un po' La splendida Con Maurizio Alberghini In vita Nell'otto attuale Vediamo se lui viene Anche perché sarebbe Arriverà molto presto Anche perché sarebbe Il nostro proprietario Di casa Ragazzi Oh È arrivato Tra l'altro Vai qui Lui ha fatto Io lo metterei Visto che ci troviamo Ad allenarsi Un pochino Eccola Ma lui è Furente No raga Comitato di benvenuto Presentazione rispettosa Vediamo se Lui è Furente Perché Allò Allò Aiuta Aiutiamo In qualche modo Vediamo Lui è abbastanza contento Delle nostre condizioni Scherza sulla peluria Discuti della pace del mondo Vanessa nel frattempo Ragazzi Sta tenendo d'occhio Perché oggettivamente Questo è il nostro proprietario Di casa Quindi tutti dicono No perché Lia Ha invitato il proprietario Di casa Ma noi Chiacchieriamo qui Scusate Ma noi ci Ce ne andiamo Belli in casa Hola Cerca di calmare Proviamo a vedere Se lei riesce A calmare Racconto una storia Convolgente Anche Dai vediamo Una Lia Kim Con questi colori Raga Molto Daniele Alberghini Eh Molto Daniele Alberghini Non lo so se riesce A calmarlo Sapete Che lui è furente Però secondo me Sì Secondo me Sì Ce la fa Ce la fa Perché Lia C'ha questa dote Della pace interiore Infatti ragazzi Ce l'ha fatta E' entusiasmati Per il benessere Scusati Oddio C'è qualcosa Che non va Nell'appartamento Raga Che stress Comunque posso dire Che Chiedi della carriera Posso dire che Cioè Questi alberghini Sono Veramente Non voglio dire Non voglio usare Odiosi Però Cavolini Cavolini Cioè Sono veramente rigidi Come Chiedi di spezionare Oggetto di unità Oggetto di uno spazio condiviso No Complimentati per le condizioni Dell'unità Diciamo Di locazione Andrò a parlarci La prossima volta Che ne avremo occasione Noi dobbiamo fare Un po' gli splendidi Perché con La nostra Lia Kim Io me la vedo Un po' Ragazzetta Bella Benessere Tutto così Ma che c'ha Magari che si prende La cottarella Crede un po' Al Oddio Non ha voluto Il doppio letto Che crede un po' Alla cottarella Del proprietario di casa Supporta barbe e baffi Di Maurizio E rallegriamolo Perché Maurizio Mi sembra teso Amo Però non ci devi rompere I pelotas Cioè Proprio detto Sinceramente Noi intanto C'è solo un libro Raga Acquistiamo libri Ne acquistiamo altri due Ovvero Amici Zannuti Per sempre Antologia di poesia Di una parola Adorabile Legge antologia Di poesia Nel frattempo Lei sta cercando In qualche modo Scopri cosa sta succedendo Raggiunto Il velo 2 Di carisma Non stanno andando Proprio bene Aiuta Aiuta Aiutiamo il nostro Vediamo se lui Prende il nostro Oh Però se lo prende Il nostro affetto Barzelletta Toc Toc E poi Racconto una storia Coinvolgente Adorabile Voi che dite Ce la vedreste Ce ce lo vedreste Maurizio Alberghini Che nonostante ha Una bellissima Daniele Alberghini Come moglie Comunque Fa un po' Il provolone Con una Lia Kim Ma che Devo dire Complimenti a Sinclair È molto bella Molto Daniele Alberghini Ma molto bella Guardate che fisico Che ha Provaci Dai Flerta Complimentati Per l'aspetto Vediamo se ci Se ne è andato No Complimento Sincero Discuti Degli interessi E poi Visto che ci troviamo Flerta Complimentati Per l'aspetto Lui nel frattempo Sta leggendo Ragazzi Però posso dire Yuri Noi l'abbiamo Giocato Un pochino Anche grazie Alle partite Di gameplay Normali Nella nostra Martina Quindi volevo giocare Anche un po' Con Lia Secondo me Lui ci sta Al flirt Posso dire C'è stato Raga Flerta Visto che ti trovi Raga C'è stato Maurizio Alberghini E di colpo E di colpo Non è più Incazzato Complimentate Storie Racconto Una storia Buffa Ah no È teso Ancora Dai È teso Però vabbè Possiamo Possiamo flirtare Ancora Secondo voi Oh È partito Il flirt Adorabile Parla della pioggia Perché c'è un po' Di imbarazzo Raga Adorabile Lui nel frattempo Sta finendo Di leggere Il libro Lui è fiducioso Offre una rosa Raga Lo sapete Il drama Ma lui Ci sta tantissimo Amo Ma è la tua inquilina Vabbè Affitto Dai il preavviso No Vabbè Amo Sono le 21 Complimentati per l'aspetto E poi Ambressa Lo mandiamo Un buco Via Che dici Lui ha finito Di leggere E anche lei Va a dormire Ma lui ha fatto Il secondo libro Sì Ci manca solo Il terzo libro Praticamente Ora devo proprio andare Grazie per la compagnia Va bene Maurizio Va bene Maurizio Va bene ragazzi Allora direi che Anche noi Dobbiamo andare Vi ringrazio per la compagnia E nulla raga Come al solito Vi ricordo di iscrivervi al canale Attivare la campanella Mettere un mi piace Commentare E fatemi sapere Cosa ne pensate Di questo video Ringrazio SimClair Per questa famiglia Con cui ho giocato È la prima volta Che gioco con una Delle vostre famiglie Ma raga Ormai faceva parte Del gameplay E nulla raga Ovviamente Se volete sostenere Questo canale C'è il tasto Super grazie Come vi ho detto All'inizio del video Oppure il link Di Stan Gaming Io vi mando un bacio Ciao ragazzi Noi ci vediamo Al prossimo episodio Ovvero domani Con un nuovo episodio Della Crazy Week Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti